Sto quando fai così, Luigi! Ehi ragazzi, calmatemi, per favore! E lo stare chiusi qui dentro mi rende isterici! Ah, e deve ancora arrivare il meglio! Suggerisci il prossimo? Qualcosa di ok! Un classico, dolce e divertente! Sei forte, Ghidi! Dai tu l'attacco! Era il 1968, quando 44 Gatti vinceva la decima edizione dello Zecchino d'Oro! Negli anni diventerà una delle canzoni più ascoltate e cantate di tutta la manifestazione a scuola come sul web! Sarà forse merito di quel motivetto impossibile da togliere dalla testa? Avete capito come fa il coccodrillo?